Ben ritrovati da Simone Nardone. Covid-19, i numeri della giornata di ieri sono in parte aspettati, ma comunque molto elevati, anche a causa del recupero di tamponi e risultati dei precedenti giorni di festa. Nel solo bollettino di ieri sono stati riscontrati ben 347 nuovi casi in provincia, di cui 107 nel sud pontino. Spiccano i 33 casi di Minturno, i 21 di Formia e i 22 di Castelforte, dove si evidenzia la possibile presenza di un focolaio presso una RSA, dove è in corso anche l'indagine epidemiologica, riscontrato anche un decesso di un paziente di Gaeta. Prosegue la campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus. Nel Lazio, stando all'ultimo dato diffuso ieri sera dalla regione Lazio, sono state vaccinate le prime 22.659 persone. Stando ai dati diffusi nelle scorse ore, la nostra regione rimane prima per numero di vaccini somministrati, anche non essendo la regione dove ne sono stati distribuiti di più. Il dato è diffuso a una settimana dal VDI nazionale e è a poche ore da quello del sud pontino. Una serie di associazioni del Golfo di Gaeta, in particolar modo di Formia e dintorni, vorrebbe un impegno concreto da parte della regione e della direzione ASL nella rimodulazione del sistema sanitario nel sud pontino, come è semplice, facendo diventare l'ospedale di fondi un nosocomio dedicato ai pazienti covid e quello di Formia impegnato per tutte le altre patologie. Il gruppo di associazioni parla in questo modo, di fatto chiamando in causa il presidente della regione Zingaretti, l'assessore alla sanità D'Amato e il direttore ASL Casati, a seguito dei casi di positività riscontrati presso il dono svizzero di Formia. Mal tempo sia nella giornata di ieri e continua anche nelle prime ore di quest'oggi, caratterizzate ancora, oltre che dalla pioggia, anche dall'allerta di tipo giallo per temporali e rischio idraulico idrogeologico. Ma proprio a causa del mal tempo non sono mancati disagi anche nei collegamenti. Ieri, ad esempio, sono saltate le corse veloci che collegano Formia e l'isola di Ventotene. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata odierna, ma una nuova ondata potrebbe colpire anche il sud pontino già nei prossimi giorni. Paura per un incidente stradale a fondi, dove ieri una donna di 46 anni ha perso il controllo in via della stazione, finendo fuoristrada con il mezzo che si è anche ribaltato e finendo in un fossato. Fortunatamente, secondo quanto riportato anche dal portale h24notizie.com, la donna è rimasta praticamente illesa. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri insieme ad un'autoambulanza. Tra le cause, probabilmente, il manto stradale reso viscido dalla pioggia battente. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordiamo come sempre che potete scriverci su WhatsApp al 348 888 1447. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR del Lazio Sud.